700 partecipanti da 40 paesi. Sono le cifre della sedicesima edizione di Cartoon Movie, svoltosi a Lyon e in Francia, obiettivo del forum creare partnership per raccogliere fondi per la produzione di film di animazione europei. Dal 1990 oltre 215 pellicole sono sbarcate a Cartoon Movie per assicurarsi il finanziamento e approdare poi sul grande schermo. Abbiamo preso in esame i 14 anni prima di Cartoon Movie e i 14 anni dopo la creazione di Cartoon Movie. Abbiamo paragonato i due periodi e abbiamo constatato che la produzione di lungometraggi e di animazione si era moltiplicata per 5, un dato incredibile, e in termini di spettatori il dato si era moltiplicato per 10. Tra i film che nelle passate edizioni dell'appuntamento lionesi hanno trovato finanziamenti e produttori c'è Minuscule, la Vallée des Fourmis Perdus. La pellicola con un budget da 10 milioni di euro mescola animazione a immagini reali. Già uscito nelle sale francesi, peraltro in concomitanza con i grandi film d'animazione statunitensi, ha venduto più di 1 milione e 200 mila biglietti e ora si appresta ad approdare nelle altre sale europee. Lione per tre giorni è stata la capitale dell'industria cinematografica europea. Per molti dei film che qui troveranno finanziamenti, senza la presenza del forum Cartoon Movie la strada verso il grande schermo sarebbe ben più complicata.